Il fronte comune contro le trivellazioni alle Tremiti allarga i propri confini e tende la mano alle associazioni abruzzesi e molisane che durante questo weekend hanno calendarizzato gli altri appuntamenti per continuare la protesta. Nell'incontro è stato deciso di costituire un presidio di associazioni per proseguire la battaglia contro le decisioni romane. Nella giornata di sabato poi la rete di associazioni neonata ha chiuso il ricorso che vede in prima linea i comuni di Manfredonia, Rodi Garganico, Vieste e Vico, dietro front al contrario della regione Abruzzo che non ricorrerà al tribunale amministrativo. E per questo la rete di associazioni ha deciso di fissare proprio a vasto il prossimo incontro sperando di convincere i vicini abruzzesi a continuare la protesta. Tanto attese infine la partecipazione di Lucio Dalle il 30 giugno alle Tremiti quando si esibila in concerto. In quell'occasione verrà nominato custode del mare, visto che da sempre il cantautore italiano è legato alla capitanata ed in particolare alle Diomedee.